If only we could fly Salve a tutti e bentornati nel canale Io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto Nella community metal più controversa del web Finalmente sono qui e sono riuscito a far uscire questo video Perché signori veramente è da dicembre che io ho sentito il mio ospite di oggi E gli ho detto Ehi ma quando è che vieni sul mio canale e porti questa cosa Che poi andiamo a vedere fra poco Da dicembre che per un'altra cosa Sempre che lo faccio lo faccio non lo faccio E io non ce la faccio di qua di là Non ci siamo riusciti a organizzare entrambi E niente per chi poi mi segue su Instagram lo sa Io collaboro attivamente con The Shield of Wrestling E in poche parole non sono riuscito a farlo uscire la settimana scorsa Perché praticamente mi sono ritrovato a fare di questo Come dice Giulio Sia insieme anche al direttore Yuri lo salutiamo Anche lui Lui sia Invece salutiamo il nostro Daltor il nostro videomaker Sappiamo che è lì Sappiamo che è lì Che è un uomo che è chiuso in casa a fare podcast per tutti Mi affino qua sopra No dicevo Ma li vogliamo molto bene Molto E niente Finalmente sono qui E vi posso presentare il mio ospite di oggi Anzi Prima di presentare l'ospite di oggi Mi presento io per chi viene da fuori Diciamo dalla community di The Shield of Wrestling Perché è giusto che sia così Salve a tutti Per quelli di The Shield of Wrestling Io sono Frank Wortsman Sul canale di The Shield of Wrestling Mi conoscete in un altro modo Ma Ehi Non ci sono problemi Poi ve lo dirò E in poche parole Io sono Il mio canale Qui Il mio obiettivo su questo canale E appunto Parlare di musica E attualmente Sto parlando del black metal Ma Il mio obiettivo principale è Passare dal black metal A tutti i generi del metal Attualmente sto Sviscerando Tra molte virgolette Tutto quello che c'è da sapere Sul black metal E sto cercando di Sensibilizzare La mia community E Quella che comunque Sto creando Riguardo il black metal Se vi andate a recuperare Un po' di video Diciamo Vecchi Vedete Cosa appunto Sto facendo Qual è il mio pensiero Il mio pensiero appunto Sulla musica È molto Aperto Infatti oggi Andiamo a parlare Come vedrete Giulio dirà Un argomento controverso Ma in realtà Per me Non è per niente Controverso Detto questo Oggi Giulio Che è molto più esperto Di me Ci parla Di quando I Limp Bizkit Hanno suonato a Bruxelmania Perché sì C'è veramente Una bella storia dietro Che va raccontata Detto questo Signori Io lascio la parola A Giulio E ci rivediamo dopo Un saluto a tutte le amiche A tutti gli amici Del canale YouTube Di un mio amico Frank Orsman Io sono Giulio Prosperi Ringrazio il buon Frank Che mi ha chiesto Questa partecipazione Che io faccio molto volentieri Perché? Beh Intanto Una doverosa premessa Chi sono? Io sono un content creator Mi occupo in maniera particolare Di discipline sportive Tra le tante Il wrestling So che qualcuno potrebbe Storcere il naso Perché per qualcuno È soltanto uno sport Entertainment Però Però Il wrestling Tra le varie cose Ha tanti collegamenti Anche con il mondo Della musica E in particolare Con alcuni generi E anche alcuni Sottogeneri Quindi il motivo Per il quale Oggi io mi trovo qui Virtualmente E per parlare Di un evento specifico Con un gruppo specifico Io so che Su questo canale Tematico Si parla di musica Nello specifico Di metal E allora Oggi io non voglio Farvi triggerare Non ho neanche Mezz'ora Un'ora Per poter fare Un grosso racconto Un grosso documentario Ma voglio parlare Di quelle che potremmo Chiamare Dei sottogeneri Delle sottocategorie Di metal E quindi Nello specifico Di nu metal E di rap metal E quindi Quando si parla Di questo Di queste Come dire Categorie Distinzioni Viene in mente Un gruppo in particolare Io vi chiedo scusa Per la pronuncia Uno Perché con l'inglese Non ci prendo Due perché c'è la zeppola Parliamo Dei limp Biscuit Ecco Che a volte Io lo pronuncio Come se fossero Biscuits Bene Perché parliamo Di questo gruppo Perché Torniamo indietro Perché nel mondo Del wrestling C'è una fortissima Correlazione Con un certo Con un certo tipo Di personaggi Aggressivi Personaggi rock Personaggi Spaccaculi Passatemi il termine Ma tanto youtube Penso che me lo spaccherà Se no mi metti un beep To frank E con le loro musiche La loro damn song E le loro entrance Quindi c'è moltissimo Da raccontare Nel mondo del rock E poi nel mondo Del metal Una piccola parentesi Io ho cominciato A conoscere Determinati gruppi Storici Di questi generi Proprio tramite Il wrestling A partire Da metà Degli anni 90 Quando Conobbi I Metallica Per la prima volta Che con La loro damn song Enter the sandman Accompagnavano Sandman Un personaggio Andatevelo a vedere Decisamente Particolare Entrare nel ring Della vecchia ECW Ma ho conosciuto I motorhead Quando A cavallo Tra il 2002 E il 2004 E qualcosa di più Con Line in the sand Accompagnavano Una delle più importanti Stable Degli ultimi anni Nel loro ingresso A Raw Parlo dell'Evolution Ma poi Parlo di tanti altri gruppi I Papa Roach Che hanno scritto Quella che per me È una delle mie Dieci canzoni preferite Al mondo To Be Loved Ma parlo anche Più recentemente Degli Skillet Ecco Se vogliamo parlare Di un gruppo Più vicino a noi In termini Di tempistiche A proposito Di tempistiche Non posso stare qui A fare la storia Del rock E del metal Anche perché io Sicuramente Arrivo Da un altro contesto Però voglio Appunto parlare Dei limp Ecco Io le abbrevio In maniera tale Che mi evito Anche degli errori Di pronuncia E non mi bastonate So Che per molti Questo è stato Un gruppo anche E lo è magari Anche in maniera Controversa Per fare questo Nuovo genere Di metal Per rappare Sul metal E' negabile Però Che c'è Almeno un brano E quello di cui Vi parlo nello specifico Che è Rowling Che se anche Andate su youtube Dove già siamo Voi scrivete I limp E il primo brano Con quasi 210 milioni Di visualizzazioni E proprio questo Ecco Questo brano qui Si lega A un personaggio Dell'epoca Di Undertaker Di Undertaker Lo conosce Anche chi non si occupa Di wrestling E' il personaggio In gimmick Più famoso E più forte Al mondo Nel senso che Di Undertaker E' il becchino Il deadman L'uomo che arriva Dall'oltretomba E per quanto Al Kogan Tra gli anni 80 e 90 Rappresentata L'intera iconografia Del mondo del wrestling Di Undertaker E' il personaggio Inteso come personaggio Anche se fosse Cinematografico Televisivo Più riconoscibile Bene In questo periodo storico Di Undertaker Non interpretava Quel personaggio Era un American Badass Un'America arrogante Un American Prepotente Uno spaccaculi Ecco Lui entrava a bordo Della sua moto Della sua Harley Non vorrei sbagliare E aveva anche Una damn song Che era diversa Dai rintocchi Del cimitero Che damn song Aveva Rolling Dei limp Appunto Di Undertaker Si presentava così Era un personaggio Come al solito Un Si direbbe Un tweener Nel mondo del wrestling Un face Comunque Di Undertaker Era il buono Della situazione Ecco Ok E si presentava Bordo Ring In questo modo L'evento Di cui vi parlo È l'edizione Numero 19 Nel 2003 Di WrestleMania Dove Undertaker Deve affrontare Un match Con un partner Chiamato Con un partner Che è Nathan Jones Che qualcuno Se lo ricorda Interpretare Il ruolo Del gigante Nelle prime scene Nei primi Cinque minuti Di Troy Nel 2004 E deve sfidare Un team avversario Composto da Big Show Che è veramente Un gigante E a Train Un atleta Conosciuto Per essere Forse il più peloso Nell'intero mondo Del wrestling Bene Si arriva a questo match Non era una faida Principale Non lo era Per il wrestling man Non lo era Per quell'edizione Nello specifico Non lo era Per The Undertaker Era comunque Un match Che Undertaker Vince Perché Chi non conosce La storia di Undertaker Ha avuto Un record In quel Di Wrestlemania Ha vinto Quasi tutti i match Ai quali Ha partecipato Perché parliamo di questo Perché questo personaggio Si presenta nel ring E lì c'è anche Volendo un altro Tipo di apice Per una band Come l'imp Loro Daranno Loro saranno La colonna sonora Dell'intero evento Wrestling mania Ok Con crack addict E poi Si esibiranno Dal vivo Facendo entrare The Undertaker In scena Ma c'è una particolarità Tante volte Capita che Determinati band Rock Metal Si esibiscano In determinate puntate O Pay per view Quindi eventi speciali Che cosa capita lì? Che Fred Durst Lui addirittura All'onore Se volete Passatemi il termine Di condividere il ring Con The Undertaker Perché di solito Le band stanno sullo stage Invece Lui è sul ring Quando arriva The Undertaker E' chiaro che Con la gimmick Dell'American Badass Può essere una cosa del genere Se Undertaker fosse stato Il Becchino O il Ministry of Dark Questa cosa non sarebbe capitata Questo è sicuro Io gesticolo parecchio Vero? Vabbè Frank Vedi tu che cosa puoi fare? Detto ciò Detto ciò L'American Badass Poi potete recuperare il video Solo il video dell'ingresso O il match Entra sul ring Ovazione Pop Va over Saluta tutti Da il 5 Riscando quasi di spaccare la mano Al leader dei linked E poi comincia il match Lo vince Ve l'ho già detto Ma quello che è importante Dire in questo video Per questo contributo E che c'è stata questa esplosione Anche Anche mediatica Hanno condiviso il ring Per un breve periodo Durante quell'edizione E quindi Questo Era il contributo Che vi volevo Portare Sicuramente Rolling è una canzone Che spacca Sicuramente L'imp Hanno avuto Un loro apice C'è chi dice Dal loro debutto Verso 97 Se non vado errato C'è chi dice Proprio in quegli anni Tra il 2000 e 2004 C'è chi dice Proprio in quel periodo E' chiaro Siamo nel 2022 Passato del tempo E questo mi fa pensare Anche A quanto io Sia invecchiato Non come The Undertaker Ma Anche la metà Dei suoi anni E allora Io vi ringrazio Per avermi ascoltato Per avermi visto Per avermi seguito Ringrazio Frank Per avermi ospitato Chissà Magari ci troveremo A parlare Di altri gruppi Di altre band Io come ho già detto Amo in maniera particolare Alcuni gruppi Alcuni velocitati Ma ci sarebbero anche Tanti altri Che hanno legato Determinate canzoni A determinati verser Se vi è piaciuto Questo video Fatecelo sapere Nei commenti Se vogliamo Rivederci Per parlare Di qualche altra Di qualche altra band Di qualche altra gruppo Io rimango a disposizione Un saluto A tutta quanta La community Del nostro amico Frank Del canale YouTube Frank Orseman Ci vediamo alla prossima Un saluto Da Giulio Prosperi Ciao Allora bene Quindi Io penso che C'è veramente poco Da aggiungere Ecco Su questo video Però Visto che ci siamo Volevo raccontarvi Un po' Un aneddoto Che prima o poi Avrei dovuto portare Qui sul canale E in poche parole Vi voglio raccontare Un po' Di come io Di come Frank Si è diventato Frank In poche parole Di come io Mi sono avvicinato Alla musica metal Un po' come ha fatto Giulio In questo video Vi racconto io Come sono entrato Nella musica metal Allora In poche parole Sì Anche Io devo ringraziare Il wrestling Ma Devo ringraziare Un'altra persona Veramente Io Lo faccio pubblicamente Perché Non so se vedranno Mai questo video Non lo vedranno mai Però ci tengo Veramente A A farlo Perché Io ogni giorno Ogni tanto Quando ci penso E dico Dentro di me Ringrazio questa persona Perché Veramente Ha fatto scaturire Questa mia passione Per la musica metal E se non fosse per Questa persona Io Sarei una persona Come tutte le altre Allora Partiamo con il dire Che Avevo sì e no Una decina d'anni Non mi ricordo Effettivamente Quanti anni avevo Dovrei andare a riscavare Un po' Diciamo Posso risalire All'età Più o meno Però adesso Non ho tempo E Prima o poi Lo farò Diciamo che I più vecchi Se la ricordano C'era una trasmissione Che andava in onda Su Sport Italia Sport Italia Signori Che si chiamava WWE News Condotta da Stefano Benzi Allora Io ci tengo Prima di tutto Veramente A ringraziare Stefano Benzi Perché Veramente Un giornalista Incredibile E Tra l'altro Ho scoperto Qualche settimana fa Che sul canale Di The Shield of Wrestling Yuri Il nostro direttore Che saluto Ha Intervistato Stefano Benzi E comunque Sia Devo dire Che Stefano È Il padrino Per Tra molte virgolette Colui Che ha indirizzato Tutta la nostra Generazione Verso Il wrestling Io Diciamo che Vedevo Sport Italia WWE News Perché Non avendo Sky In quel periodo Non avevo Il Non avevo Possibilità Di vedere Raw WWE Raw E io potevo Vedere Solo Smackdown Quindi Avendo quella passione Per il wrestling Molto forte Vedevo WWE News Che andava in onda Tutte le sere Bene Devo dire Che alla fine Di ogni tanto Alla fine Di ogni puntata Andavano In onda Delle clip Loro le chiamavano Clip Ed era un montaggio Penso che Il montatore Si divertì Appunto A fare Questo montaggio Con appunto Musica Sotto Clip di wrestling Con musica Sotto Raga Dei montaggi Allucinanti Io ancora oggi Me lo ricordo E devo dire Che anche Quello è stata Una Spinta in più Per Diventare Quello che sono In ambito Di videomaker Bene Allora Indovinate un po' Qual è la canzone Con cui sono rimasto Di sasso La canzone Con cui sono rimasto Di sasso Che mi ha fatto diventare Quello che sono adesso È B.I.O.B B.Y.O.B Dei System of a Down Mi ricordo ancora Che era sera Appunto Stavo mangiando E Niente In poche parole Sono rimasto Veramente Vi giuro Con la bocca aperta Ascoltando Quella canzone Poi il montaggio Raga era Incredibile Montaggio era Incredibile Ancora me lo ricordo E Io Signori Non so se Questa persona Non ricordo in realtà Chi è stato a montare Questo video Ma Veramente Io vi giuro Devo la mia vita A lui Io devo Devo Tutto Quello che Sono A lui Quindi Grazie Veramente Di cuore Grazie 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 a Stefano Benzi Per aver fatto Una trasmissione Del genere E grazie Soprattutto A Chi ha montato Questa clip Perché veramente Mi hai fatto diventare Quello che io sono adesso Detto questo Detto questo Niente Sono veramente contento Di aver fatto Un video Del genere Sono contento Che Giulio È venuto Sul Sul mio canale Sono contento Insomma Di un po' Di tutto questo Ecco Un saluto Speciale Sicuramente Va Alla community Di The Shield of Wrestling Che saluto Anzi Ci tengo a dire Che Non perché ci lavoro Però Abbiamo veramente Dei podcaster Incredibili Se vi piace il wrestling Andateli a seguire Praticamente Facciamo un podcast Su tutte le piattaforme Da YouTube Spreaker Spotify TuneIn Tutto Il mio Modo Per ascoltare I podcast Preferito È Diciamo Ascoltarli su Spotify Io qui dietro Ho Alexa Alexa Stop Ecco Lo sapevo Lo sapevo Che sarebbe partita E niente Io praticamente Prima di andare a dormire Ascolto Diciamo I podcast Il mio preferito Vi dico la verità È Voice of the Voiceless Non perché È quello che monto io Però Essendo la All Elite Una scena Molto più giovane Molto più accattivante È Molto più bello Ascoltare Voice of the Voiceless Poi ecco Abbiamo Game of Raw Con Leonardo Santoleri Mio amico Che prima o poi Vedrete sul canale Anche con lui Parleremo di wrestling E Più precisamente Di Black metal Credo Perché comunque Ci sono alcuni personaggi Alistair Black Spoiler Di cui andremo a parlare Che appunto Sono molto più Oscuri E si prestano molto Al black metal Tra l'altro Lui è un personaggio Molto Ascolta musica Di un certo livello Per cui ne parleremo E stavo dicendo Game of Raw È un podcast Molto irriverente E devo dire che È molto bello Sotto Sotto Quell'aspetto Nel senso che Veramente fa Morire dalle risate Poi abbiamo Ecco Voice of the Voiceless Come dicevo Abbiamo Agents of Smackdown Con La gente La gente segreto Chiara Abbiamo Agents of Smackdown Che vi consiglio Di andare a vedere A sentire Perché Per come ci raccontano Smackdown Nonostante sia Quello che è Attualmente La WWE Vi dico che Lo raccontano Talmente bene Io tra l'altro Questa cosa L'ho detta anche a loro Lo raccontano Talmente bene Che Veramente Mi viene voglia Di andarlo a vedere Settimanalmente Smackdown E poi niente Abbiamo il club Di What's Next Con il direttore E la sua cricca Che potete trovare Anche su Twitch Tra l'altro Tutte le settimane Detto questo Signori Io vi saluto Vi ringrazio Per essere arrivati Fin qui E per aver ascoltato Questo ragazzo Che parla Delle proprie passioni Io Questa volta Voglio fare un saluto Come fanno sempre I ragazzi Di The Cillo Sports E Lo voglio fare Appunto Come lo fanno loro Signori We are The Cillo Sports Ciao 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 Grazie a tutti.